La tentazione esiste davvero, ma così si rischia di portare avanti una battaglia in modo del tutto solitario, con prospettive peraltro molto incerte in termini di cifre e percentuali, con il serio rischio di essere schiacciati dal rullo compressore di Forza Italia da una parte e del nuovo centrodestra di Massimo Cassano dall'altra. Fratelli d'Italia è l'unico partito a non aver addiritto al fronte coeso dei moderati, ancora più coeso dopo l'adesione del nuovo centrodestra che ha definitivamente sciolto le riserve sul candidato di impegno civile Mimmo Di Paola, di fronte al niet sovietico dell'irremovibile Raffaele Fitto. I seguaci di Giorgia Meloni, guidati a Bari da Filippo Melchiorre, sono stati i primi ad insistere sulla necessità di scegliere il candidato sindaco attraverso lo strumento delle primarie. Ma poi le cose sono andate diversamente, rimanendo in pratica con il cerino acceso, unici testimoni ora costretti a prendere decisioni e anche in tempi brevi. Sabato 15 e domenica 16 marzo il popolo della destra potrebbe sciogliere definitivamente le riserve e magari decidere di testimoniare la propria coerenza dando il ben servito alla coalizione. Durante il weekend sarà organizzata una consultazione popolare attraverso internet ed alcuni gazebo posizionati nel centro della città per sapere se è il caso oppure no di andare da una parte e occorrere in perfetta solitudine. Stando ai rumor se il matrimonio con i conservatori non ci sarà. Il segretario regionale del Movimento, Marcello Gemmato, parla di centrodestra votato alla sconfitta, aggiungendo anche che attualmente le condizioni che i fratelli d'Italia facciano parte della coalizione non sussistono, essendo stati praticamente snobbati dagli alleati. Dunque la spaccatura sembra dietro l'angolo, giustificata dal fatto che nel movimento di destra nessuno si riconosce e si identifica in quello che dice il candidato di Paola.